Ciao a tutti, qui è Lucar164. Oggi vi vorrei proporre una cosa. Che ne dite se il 7 farò una live su Twitch distruggendo questa macchina virtuale che vedete qua bella e buona? Nonostante mi sia ispirato a uno youtuber immagino che come idea vi piaccia vero? Allora, se arriviamo a 10 lì che entro il 6 agosto manterrò la promessa. Però dovete vederla, perché se non vedo neanche uno spettatore chiudo tutto qua, spero che abbiate il tempo per vederla. Buona giornata. Ah, giusto, se proprio siete interessati alla live mettete like. Io non vi costringo affatto a metterlo. È questione che riguarda voi. Alla prossima.